Ciao a tutti, eccoci in questo nostro nuovo video e anche oggi parleremo di The Mask Dopo aver avuto problemi con il trailer abbiamo deciso un po' di cambiare la cosa e adesso siamo decisi tra una serie, una miniserie o un corto In questo corto succederà una cosa che cambierà quando la ragazza indossa la maschera non si vedrà più la faccia verde, ma si vedrà una maschera strana, deformata Non vogliamo scollerarvi il motivo, perché è abbastanza importante, ma succederà questa cosa Noi per voi abbiamo tre scelte diverse di maschera che potremo vedere nella trasformazione Fate la vostra scelta, la prima, la seconda e la terza Scrivete nei commenti quale più vi piace e in base al vostro voto decideremo quello usare nel corto o nella serie Quindi ci si vede alla prossima, ciao a tutti! Grazie a tutti!